buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di gradatori interne d'istituto per individuare il perdente posto anche perché tutte le scuole d'italia entro la fine del mese dovranno essere pubblicate tali gradatorie domanda numero 1 nelle gradatori interne d'istituto per l'individuazione dei docenti perdenti posto c'è sempre qualcuno che sta in coda nonostante abbia un punteggio maggiore di altri come mai i docenti col contratto a tempo indeterminato entrate far parte dell'organico dell'autonomia di una scuola dall 1 settembre 2021 a seguito di domanda volontaria di mobilità o perché neoassunti vengono a trovarsi graduati in fondo alla gradatoria dopo i docenti già titolari nell'organico della scuola prima dell'1 settembre 2021 e dopo chi a causa di una precedenza non viene graduato domanda numero 2 un docente con la precedenza per assistere il genitore gravemente disabile può essere escluso dalla gradatoria interna anche se il genitore vive in altro comune della stessa provincia dove il docente è titolare si può essere escluso dalla gradatoria interna a condizione che abbia presentato la domanda volontaria di trasferimento entro il 15 marzo 2022 per il comune in cui è domiciliato il genitore l'assistito ovvero in caso di mancanza di sedi esprimibili nella residenza del comune di residenza del padre per il comune vicinore allora in tal caso viene escluso dalla gradatoria interna di istituto domanda numero 3 la gradatoria interna dei docenti di sostegno si compila come un'unica gradatoria o vanno fatte più gradatorie in funzione alla tipologia di disabilità si compilano gradatori distinte per ciascuna delle tipologie di sostegno previste nella scuola per cui verrà redatta una gradatoria per i titolari di sostegno sulla tipologia di posto minorati della vista poi un'altra gradatoria di docenti titolari sulla tipologia di posto minorati dell'udito un'altra gradatoria di docenti titolari sulla tipologia di posto minorati psicofisici speriamo che queste risposte siano utili ai nostri lettori seguiteci ancora perché tratteremo di queste anche di altri temi nelle prossime puntate arrivederci a tutti grazie a tutti